buongiorno a tutti stamattina siamo in compagnia di paola falconi artista scultrice epitrice illustratrice disegnatrice e anche vicepresidente di casti art ciao come stai bene bene grazie molto contenta di essere qui oggi allora paola come l'anno scorso farà parte della collettiva sarà tra gli artisti che spingono nella collettiva 2020 la mostra organizzata a fine anno dagli artisti dell'associazione casti art è allestita presso gli spazi di viale la playa 15 da the net value che come l'anno scorso generosamente ospita a questa nostra collettiva paola già l'anno scorso aveva avuto il suo spazio nella collettiva che aveva sfruttato sia per delle opere su carta sia per delle sculture e che comunque erano collegate tra loro attraverso un filo un fil rouge stilistico nonostante appunto si trattasse di materiali così diversi e di comunque tecniche anche artistiche così diverse quest'anno invece paola che cosa ci porti allora quest'anno essendo un anno diverso ovviamente dall'anno scorso è un'opera che riguarda il tema della distanza il tema del del fatto che appunto abbiamo dovuto cambiare tutte le nostre abitudini o comunque gran parte di esse il tema che ci vede chiusi in casa che ci vede limitati nelle nostre libertà di tutti i tipi e quindi ho voluto fare un'opera che si compone di due parti diciamo cioè una parte mia pittorica una pittura su tavola diciamo e che però viene è completata quest'opera dalla presenza e dalla azione che compiranno le persone che visiteranno la nostra mostra e che vedranno l'opera cioè l'opera sarà completa quando ci sarà stata la partecipazione delle persone è molto importante per me questo discorso della socialità cioè della partecipazione fisica proprio anche ed emotiva davanti a quest'opera perché adesso manteniamo magari un po' di suspense non descrivendo troppo come sarà però si tratterà trovandosi davanti all'opera di compiere un semplice gesto che indicherà il passaggio delle persone davanti a quest'opera e quindi la distanza che in questo momento viviamo tutti fisica e psicologica diciamo sarà accorciata dalla testimonianza di questo piccolo passaggio di questa partecipazione delle persone che trovandosi davanti all'opera dovranno compiere un semplice gesto e che poi io vedendola anche se in quel momento io non posso esserci nel senso a volte potrò esserci a volte no quando la rivedrò vedrò chi è passato e che cosa ha fatto quindi la mia opera sarà completa quando le persone l'avranno completata ecco Paola che cosa significa per un artista vivere in una situazione come questa che abbiamo vissuto nell'ultimo anno che cosa significa per un artista che comunque vive e percepisce anche in maniera molto più intensa delle altre persone il feedback, i sentimenti, le emozioni, i dialoghi, i pensieri delle altre persone e se ne alimenta poi per trasporli nella propria arte la mancanza di socialità, la mancanza di contatto con le altre persone come influenzano poi il lavoro degli artisti e come hanno influenzato il tuo? Allora io diciamo ho avuto una... sì sono stata molto influenzata da questa chiusura nel senso che caratterialmente mi piace la solitudine, mi piace isolarmi mi piace, ne ho bisogno per lavorare, per concentrarmi però paradossalmente in questa situazione essendo una solitudine forzata ovviamente ha sortito l'effetto contrario in me cioè io adesso ho desiderio di uscire, di frequentare, di vedere e quindi non so ha avuto proprio un effetto dirompente questa chiusura e nelle opere ho desiderato rappresentare anche, cioè nell'opera quello che sentivo, le frasi che sentivo dire dalle persone cioè cosa mancava alle persone, le parole che usavano una parola molto frequente è stata sospensione mi sento sospeso, mi sento insicuro, sento il domani incerto oppure ho voglia di viaggiare, mi manca viaggiare mi mancano gli abbracci, mi manca il contatto fisico mi mancano i baci, mi mancano proprio... cioè mi manca questo, cioè la fisicità perché noi siamo fatti di spirito e corpo, non solo di spirito quindi ho solo di corpo, quindi tutte e due quindi tutte queste parole che io sentivo in giro, queste emozioni io ho cercato di capirle, le sentivo mie e però capivo che erano generalizzate cioè ho sentito che questo momento pur essendo diciamo un qualcosa che ognuno vive per sé però lo vive anche tutto il mondo cioè è un qualche cosa, c'è una mosca, è un qualche cosa che riguarda tutti quindi ci unisce tutti, tutti siamo distanti però al tempo stesso tutti siamo vicini questo mi ha fatto riflettere tantissimo cioè mi sono sentita, mi sento vicino a tutto il mondo Allora, io credo che il percorso che tu hai fatto sia abbastanza particolare le persone che seguono un pochino i lavori che facciamo sanno che oltre ad aver costituito insieme CastiArt perché CastiArt sostanzialmente è nata perché l'abbiamo fatta noi due con... Tirando in mezzo Mario, Mario Mariani che ci ha supportate pazientemente in questa nostra mission quindi io curo il tuo lavoro e da curatrice ho notato comunque un escursus in quest'ultimo anno nei tuoi interessi artistici cioè tu sei partita da una situazione in cui l'oggetto della tua arte, del tuo lavoro era fondamentalmente ciò che ti circondava in termini di oggetti del tuo studio oggetti, elementi del tuo giardino le tue figlie tutto quello che apparteneva diciamo alla tua identità al tuo privato, alla tua personalità poi c'è stato da lì un orientamento verso la natura intesa appunto come la casa di tutti gli uomini e quindi con la necessità di rispettarla di averne cura di evitare dei grandissimi disastri ambientali per colpa comunque di un atteggiamento aggressivo dell'uomo nei confronti della natura che è stato poi il tema del tuo progetto Culla d'Inciviltà che è nato proprio in seguito ad un'alluvione abbastanza violenta che c'era stata appunto nella zona in cui tu vivi Culla d'Inciviltà poi è andata avanti è cresciuto come progetto e si è evoluto chiamando diciamo il pubblico ad una partecipazione a questo progetto cioè infondere la responsabilità al pubblico attraverso una partecipazione attiva al progetto in forma di performance ed è stato poi il bellissimo allestimento che quest'estate avete fatto nell'isola di Santa Maria in Cosa Smeralda adesso invece vedo che comunque l'orientamento si sta spostando ancora di più verso l'uomo verso il sociale verso il modo in cui l'uomo vive il proprio tempo le emozioni, i sentimenti il peso dei tempi che viviamo il modo in cui l'uomo lo vive e l'interazione poi che l'uomo ha con i suoi simili durante questi periodi forse un discorso che accomuna però tutti questi periodi e tutta questa evoluzione del tuo discorso artistico è la positività cioè alla fine comunque il messaggio è sempre un messaggio di speranza di positività sì beh diciamo che senza la speranza e la positività la vedo dura a vivere cioè è una cosa, un dovere che abbiamo nei confronti di noi stessi prima di tutto perché è così se no cosa facciamo? la vita io penso che sia fatta per essere vissuta alla fine per raggiungere la gioia cioè comunque perché tutto ciò che abbiamo intorno a volte ci atterrisce spesso ci atterrisce però noi sappiamo dentro di noi nel nostro profondo che dentro di noi c'è la luce c'è la gioia appunto e quindi io metto sempre comunque nelle mie opere lo spiraglio della luce, della gioia perché ci credo profondamente e poi tu vedi l'arte come terapeutica assolutamente l'arte io se non faccio arte diciamo per un certo periodo che possono essere tre giorni una settimana così poi qui a casa mi dicono no no vai in studio a fare arte cioè ho bisogno di rifare arte è proprio un'esigenza naturale come respirare come mangiare cioè io devo farlo per forza e quindi hai posto comunque nella tua opera e nel tuo discorso un suggerimento nel comunque vedere gli aspetti positivi che ci sono sempre in ogni situazione sì sì ma in culla di inciviltà intendi? ma anche sì in culla di inciviltà ma anche nell'ultimo lavoro che hai fatto ah sì perché nell'ultimo lavoro ci sono ci saranno delle frasi che oltre che indicare il nostro disagio le nostre mancanze indicheranno ciò che noi abbiamo appreso da questa da questa situazione cioè le cose positive che comunque ci possono essere successe per esempio abbiamo ci siamo fermati ci siamo fermati di più abbiamo potuto fare ciò che non avevamo il tempo di fare quando eravamo immersi nel tritta carne della vita abbiamo avuto più tempo per noi stessi per la nostra crescita personale abbiamo avuto più tempo per leggere abbiamo avuto tempo per giocare con i nostri figli o comunque per chiacchierare con gli amici anche se al telefono magari cosa che non si fa cioè io non sono una grande amante del telefono chi mi conosce lo sa eppure mi sono ritrovata a prendere la cornetta a chiamare che dicevo aiuto sarà successo qualcosa quindi abbiamo recuperato quella parte di noi che avevamo messo un po' in sordina che non magari così un po' da parte è una cosa molto bella di questa situazione sì e questo è diciamo è un messaggio che tu stai dando poi al tuo pubblico un messaggio comunque di riflessione attraverso attraverso l'arte sei arrivata comunque a percepire che anche in una situazione così difficile così problematica tra l'altro l'opera di cui stiamo parlando tu l'hai completata è realizzata nella parte finale in un momento molto particolare in cui comunque eravate voi in quarantena a casa per la positività di una delle vostre figlie quindi voglio dire questo è un grossissimo messaggio cioè anche in una difficoltà così grande anche in una situazione così preoccupante così generatrice comunque di ansie timori eccetera usare l'arte come mezzo di superamento di queste difficoltà sì superamento aiuto vita proprio fare l'arte in quel momento è un modo per reagire è un modo per reagire è un modo per farsi forza per trovare la forza la speranza attaccare per tante cose e devo dire che anche la nostra associazione in questo caso cioè ha questo scopo in questo momento cioè lo scopo di dire noi ci siamo siamo presenti nel nostro territorio in Sardegna e adesso grazie a internet ovunque perché uno basta che si colleghi da tutto il mondo e può vedere le nostre interviste e poi potrà vedere anche la nostra la nostra mostra naturalmente e quindi noi ci proponiamo con la nostra associazione di di dire noi siamo qua ci siamo continuiamo a fare arte nel modo in cui si può fare arte in questo periodo la facciamo con tutto l'impegno perché noi crediamo profondamente nell'arte l'arte è la nostra vita la amiamo quindi è il nostro modo per il nostro modo per dire io sono passato e ho lasciato questo ci sono stato e ho fatto questo e quindi è molto è un messaggio positivo anche questo cioè la nostra associazione vuole vuole dire che ci siamo e che facciamo arte anche in questo modo ecco è un nuovo modo per farla è assolutamente ma poi la cosa per me da ovviamente da curatrice il sostenere gli artisti ci sono categorie di lavoratori che in quest'ultimo anno si sono visti tagliare enormemente le proprie entrate la possibilità anche di lavorare e che sono scesi in piazza hanno fatto grosse manifestazioni si sono espressi comunque negli organi di stampa giustamente in maniera molto forte rispetto per comunicare il disagio che stavano vivendo gli artisti si trovano in una situazione se vogliamo molto peggiore perché quello che hanno dovuto fare tutti gli artisti durante il 2020 e lo diciamo senza ipocrisie perché così va detto è semplicemente smettere di fare gli artisti e dedicarsi a fare un altro lavoro che non è il loro che non è quello di artisti per poter mangiare questo ovviamente è una cosa di una gravità estrema e nel nostro piccolo con la nostra associazione noi stiamo dando la possibilità agli artisti che ne fanno parte di esporre di far vedere la propria arte quindi di poter venire in contatto con collezionisti con amanti dell'arte che possono poi appunto prendere contatto con gli artisti stessi e affidare loro delle commissioni o acquistare da loro le loro opere i loro lavori ma noi lo stiamo facendo proprio per diciamo in qualche modo sopperire a veramente un anno di crisi nera per l'arte e quest'anno come associazione grazie appunto sicuramente a Mario abbiamo potuto non chiedere la quota associativa agli artisti e permettergli ugualmente però di fluire di tutti i servizi che CastiArt dà capendo che comunque per loro si trattava di un anno di grossissima difficoltà io di questo sono estremamente fiera estremamente contenta sì si va avanti non ci si ferma si va avanti con gli obiettivi che ci hanno portato a credere in questa associazione a desiderare di farla e tutto insomma si va avanti con fiducia ecco e poi parla su una cosa eravamo d'accordo ovvero la mostra in rendering no sì sì sono d'accordo la mostra in rendering no è vero sì prima o poi finirà questo momento e a quel punto la mostra sarà visitabile fisicamente e lì sarà sarà bellissimo sarà bellissimo stiamo allestendo fisicamente la mostra negli spazi espositivi che chi ci segue conosce perché sono gli stessi che abbiamo utilizzato l'anno scorso per la collettiva 2019 e chi non ci conosce può andare nel sito di CastiArt che è curato da Christian Castelnuovo e ha tutte le immagini di quella bellissima esperienza che è stata la collettiva 2019 e vedere appunto che cosa avevamo fatto lo scorso anno quest'anno quest'anno stiamo riallestendo la mostra fisicamente in quegli spazi e per il momento perché da decreto ministeriale mostre e musei sono chiusi quindi non possiamo aprire al grande pubblico per il momento un fotografo dell'associazione che Alberto Masala farà un tour virtuale della mostra e quindi sarà possibile per il nostro pubblico vederla attraverso il sito di CastiArt però la mostra rimarrà allestita rimarrà lì ad aspettare il grande pubblico perché appena sarà possibile riaprire le porte noi saremo lì ad aspettarvi per farvi vedere dal vivo le nostre opere degli artisti queste interviste questo fantastico video che verrà fatto sono i prodromi cioè di quello che poi sarà cioè fisicamente adesso facciamo così lavoriamo così va bene Paola io ti ringrazio tantissimo grazie a te grazie a te Cati del tuo lavoro del tuo impegno che è tantissimo e poi grazie a Mario e grazie a tutti gli artisti che partecipano con entusiasmo a questo progetto e poi aspettiamo tutti quando quando sarà il momento sia in video prima che poi fisicamente allora diamo appuntamento a tutti gli appassionati d'arte e a tutti coloro che già ci seguono ma è quelli che ci vorranno seguire domenica prossima verosimilmente il tour il tour virtuale sarà online quindi potrete vederlo nel frattempo guardatevi tutte le interviste che abbiamo fatto perché sono molto interessanti io ringrazio ancora Paola Paola Falcone grazie a te e a presto ciao a tutti ciao Paola ciao ciao Cati